buonasera a tutti mascherine prima questa celeste purtroppo stasera mi dovete sopportare un po con questi capelli che mi sono scordato a casa l'elastico e quindi ci siamo doppia mascherina eccoci e si riparte l'altra volta avevo fatto un errore non so se l'avevo già detto che avevo detto ci si vede alle ore 21 e invece è alle 21 e 30 che inizia sempre la nostra questa cosa non so che voglio chiamarla da quanto grazie per tutti i commenti che mi stanno arrivando per tutte le cose che che state dicendo iniziamo subito iniziamo subito col biglietto che parla e io presento subito l'allievo ideale johnny sentiamo l'allievo ideale tex eccolo la stecca ce l'ha già qui gliela do io questa è la mia la stessa è sempre la stessa la mia invece lui dillo un po cosa c'hai oggi che stecca è questa è la sagnella ed ora ed ora ecco oggi c'ha la sagnella tex la sagnella dell'edora stai giocando bene con questa che stai giocando abbastanza bene allora iniziamo col biglietto che parla perché stasera bisogna andare veloci io qui ho scritto qualcosa c'è un po di scritte qui qui c'è qualcosa di strano e allora io bisogna che ti chieda è bella questa cosa perché lo due non sa niente due non sa niente di quello che gli sto per chiedere quindi siccome c'è scritto gesù bisognerebbe che ti chiedessi ma te come si è messo a ci credi non ci credo ci credo eh sono cresciuto abbastanza bene sinceramente su quell'argomento lì sinceramente di quello che ti pare per chi non lo so davvero sono anni che ci conosciamo io e tex se hai fatto scuola se hai giocato il seno ti ho mai chiesto una cosa di un cattolico io parecchio sei cattolico non pratico ma sono cattolico un praticante e va bene e allora io non lo sapevo comunque ma questo non ci interessa ora da un punto di vista noi qui non è che c'è da fare io però della settimana che c'è stata in corso mi sono imbattuto in questo versetto che gesù dice nel vangelo secondo matteo a 6 34 vabbè questi sono vangelo lui e cosa dice dice non siate dunque in ansia per il domani perché il domani si preoccuperà di se stesso basta a ciascun giorno il suo affanno questo è quello che ha detto gesù io ho preso questo versetto e ho cominciato un attimino a ragionarci sopra su questo versetto ora stai a vedere dove si va a finire che si va a finire sul tiro dell'altra volta non ti posso stare troppo vicino tuo e su alcune cose che che allora da questo versetto cos'è che si capisce si capisce che il tempo non ci appartiene noi facciamo le cose usiamo il tempo ma il tempo non ci appartiene quindi siccome lui dice non siate dunque in ansia per il domani cos'è che allora noi bisogna fare bisogna vivere il presente non dobbiamo essere ancorati al passato e non dobbiamo essere in ansia per il futuro quindi gesù cos'è che ci sta dicendo michele io tex te e tutti voi a casa occupatevi meglio che potete del vostro presente non state il passato è importante perché sono cose che sono successe ci servono come come ricordi per migliorarci per non fare più diciamo degli errori ma lui valga di cioè non dobbiamo essere ancorati a queste cose che sono successe nel passato e nemmeno pensare al futuro perché si va in ansia quindi michele tex e tutti voi a casa occupatevi meglio che potete del vostro presente a questo punto però noi ci fermiamo perché noi non non si deve fare i sermoni qui ora noi si si fa però una cosa si prende questo versetto e lo trasformiamo in chiave biliardistica capito quello che ha detto gesù quassù noi lo trasformiamo in chiave biliardistica per quello che ci interessa a noi per migliorare a biliardo se noi trasformiamo questo insegnamento in chiave biliardistica otteniamo questo allora vivere il presente a cosa è uguale cosa c'è scritto legge te pensa al tiro che fai e ai davanti solo a quello vivere il presente in chiave biliardistica è uguale a pensa al tiro che hai davanti solo a quello non pensare più al tiro che hai sbagliato prima e non andare in ansia per il risultato futuro per il per il dopo non ancorato al passato non in ansia per il futuro allora noi si prende questo versetto lo trasformiamo in chiave biliardistica e otteniamo pensa al tiro che hai davanti pensa solo a quello allora altra volta sia quando hai giocato la gara che l'avversario ha sbagliato bilia te c'è la partita in mano la partita è più tua che sua la metti sull'acchito e invece di pensare al tiro che ci avevi davanti hai pensato se l'avversario però ha sbagliato bilia ora cosa faccio ora cosa non faccio quindi non pensavi al tiro mentre lo stavi tirando pensavo al futuro pensare o al passato o al futuro non è che è facile quello che sto dicendo io a tex e a tutti noi giocatori ci rimane difficili un altro esempio nell'ultimi video che si è fatto qui io gli misi un test d'affari con la biglia che staccava dalla sponda te lo ricordi se ci dovevi passare dietro la biglia era staccava tanto così in più quindi una palla che ci passa comoda che per quattro volte consecutive hai toccato la biglia sempre di sponda pensaci la prima volta uno tira prende la biglia di sponda lo ritira tira prendila di prima oppure ci passa dietro se quello ritira e la riprende di sponda se quello ritira e la riprende di sponda vuol dire che quello che sta tirando non sta pensando al tiro che c'ha davanti non si sa a cosa sta pensando ma non al tiro che c'era ma perché se te pensi al tiro che c'era avanti la biglia stacca dalla sponda la prendi di sponda ci vorresti passare dietro cosa fai miri un pochino più avanti un pochino più verso la biglia e quattro volte di fila la prendi di sponda a cosa stai pensando a tutto tranne pensa al tiro che hai davanti solo a quello cosa vuol dire penso al tiro l'ho presa di sponda qui tu pensando al tiro quindi miro un po più avanti questo pensiero che non lo fai se no non potevi fare quattro volte di fila prenderla di sponda quindi vuol dire che quando te giochi non si sa a cosa pensi perché questo lo devi sapere te io lo devo sapere io e tutti gli amici a casa lo devono sapere loro ma non pensiamo tutti al cento per cento solo al tiro che ci abbiamo davanti se te fai un errore a metà partita grave te questo errore te lo tieni addosso per tutta la partita quante volte le hai detto tante vuol dire che sei ancorato al passato perché continui a pensare all'errore che hai fatto quello ormai l'hai fatto ti deve servire sì che deve servire perché hai fatto un errore perché perché allarga il biliardo perché l'hai fatta larga perché l'hai fatta e ti serve ma non ma devi essere distaccato da questo errore non devi essere ancorato questo errore ti è rimasto addosso e continui 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 perché questo pensiero ti prende spazio invece di pensare al tiro al cento per cento ci pensi al 30 perché 20 per cento pensi alle errori che hai fatto prima altro 20 per cento pensi che c'è che vorresti vincere la batteria vorresti perché vuoi andare a campionati italiani vuoi fare punti un altro 20 per cento pensi che c'è le persone che ti guardano il biliardo che non sei sicuro lo capisci quanto cose quante cose pensi che è passato o futuro e non è pensa al tiro che hai davanti solo a quello quindi te ora nelle prossime quando giochi il giorno qualunque cosa quando sei sul biliardo ma non solo te io lo sto già facendo da tempo ci sono degli amici a casa che io vi saluto tutti che ci stiamo sentendo con dei messaggi vocali che mi dicano chiaramente guarda michele da quando mi hai detto di pensare al tiro allora da domani quando andiamo a giocare a biliardo noi cerchiamo di prendere questo consiglio che ci ha dato gesù lui l'ha dato nella vita noi lo prendiamo che sia che uno creda sia che uno non creda lo prendiamo in chiave biliardistica quindi non andare in ansia per il domani e non essere ancorato al passato biliardisticamente il tiro che ho davanti pensa solo a quello quante volte pensiamo se le persone stanno parlando se se c'è confusione nella sala dove stiamo giocando problemi che magari ci abbiamo noi a casa pensieri che abbiamo in mente questo è dentro al tiro tutti questi pensieri sono dentro al tiro quindi non stiamo pensando al tiro e basta che ci abbiamo da fare se test mentre tiravi la palla a mano la piglia libera sentivi che non stavi pensando solo al tiro e stavi pensando altre cose solo te lo sai ti dovevi rialzare non è che ci abbiamo una pistola puntata che bisogna tirare per forza se sentiamo che non stiamo pensando solo al tiro ti puoi rialzare ti rialzi e dici test cosa mi ha detto michele devo pensare solo al tiro e riprovi ti riputti su e poi magari non ce la fai perché ti vengano altri pensieri non importa migliorerai questo è il biliardo che parla oggi ci ha dato questo suggerimento ce ne darà tantissimi in questa in questo percorso che faremo ora terze andiamo via dal dal discorso spirituali miliardo che parla e andiamo a fare qualcosa di concreto dove te puoi tirare intanto saluta l'amici a casa perché a me mi sembra che ti abbiano fatto una marea di complimenti grande tex grazie addirittura matteo guaremi la puntata che hai fatto che c'è stato il finale con con i cappelli saluto a giovanni a cappelli ha detto grande tex che mi ha detto al telefono sei famoso sei famoso ti stanno vedendo tutti allora io ora appoggio la sulla stecca mia qui perché ora non serve fammi passare non stiamo troppo vicini ecco di qua johnny grande johnny walker che oggi preparati johnny e oggi è una giornata particolare per te allora cosa abbiamo qui qui abbiamo un'altra un'altra lavagna con altri disegni cosa c'è scritto qui esercizio per capire se c'è una differenza nel dare effetto a destra e a sinistra chiaramente è scritto male perché l'ho scritto io se l'avevi scritto te ora è bello è quello è esercizio per capire se c'è una differenza nel dare effetto a destra e a sinistra questo è un esercizio questo è un altro esercizio ora li andremo a spiegare ma prima io ti voglio fare una domanda quando te tiri uno chiamiamolo in italia si chiama lo sfaccio noi in toscana si chiama rovescio noi in toscana abbiamo la terminologia se la viglia la devo prendere piena si chiama raddoppio se invece la devo smeggiare si chiama rovescio ma spaccio se te devi tirare uno spaccio da una parte o dall'altra del biliardo no te l'effetto lo dai sempre uguale la palla la apri si dice la api nello stesso modo da da una parte no per la destra abbastanza bene allora facciamo una prova che ti tira fai finta ad essere in partita e ti metto una biglia qui e una qui te fai finta ad essere in partita e tiri uno spaccio sai il classico tiro a fare i venili diciamo di sviluppo quindi ti danno era qualcosa eccoci abbiamo cambiato ora il quadratura perché è importante questo momento che si veda che si veda bene quello che succede perché questo è quello che succede credo a tutti noi a tutti voi anche a casa quindi grande grande johnny giustamente ha voluto cambiare l'inquadratura eccoci siamo davanti al biliardo io spero ora di non di non darti noia inquadrami te tex che tira allora nostro obiettivo è tirare uno spaccio con la con effetto quindi in questo caso a destra quello di là sarà a sinistra che devi cercare di fare la fila ma non di prima tale cioè che la smezzi troppo la parte di sviluppo cioè con l'effetto allora vai dimmi quando sei pronto te lo dico io quando tirare è non tirare te te lo dico io perché voglio vedere pronto sei pronto e vai è comunque ormai vale la milia c'è un motivo il prelevato la milia io avevo visto avevo visto tex e come era impostato lasciala stare eh avevo visto tex e come era impostato ho visto che era messo bene ho visto tutto però li volevo fare lo volevo un pochino fregare ecco li volevo fare perché se no non mi sarebbe diciamo non mi sarebbe caduto ecco in questa ora io passo di là per non passare davanti alla e te tex e tiri guardate dove è la biglia tiri lo stesso tiro dalla parte stesso discorso ora lo sai eh ma non hai detto che te ce la devi un'altra volta ascolta mi raccomando filotto di apertura te lo dico io quando tirare dimmi quando ci sei ci sono ci sei vai è un'altra volta cu cu bebe allora eccoci eccoci che si è visto benissimo cosa è successo allora il caso tuo tex e quando ti hai tirato questi due tiri l'effetto a destra lo hai dato meno l'effetto a sinistra quello che hai che hai tirato ora lo ha dato di più vieni un attimo vieni un attimo eh johnny qui inquadrami qui praticamente inquadrami questo 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 disegno praticamente tex quando ha tirato questo tiro e io ho tolto la biglia la la sua biglia ha fatto il percorso naturale ha fatto la sua corsa e noi abbiamo visto la corsa che ha fatto ha fatto un rinterzo noi lo chiamiamo rinterzo ha fatto un percorso quando ha tirato quello dalla parte con l'effetto a sinistra invece gli è venuto molto più stretto il percorso della biglia della propria biglia d'altra parte ho dovuto per forza fargli questo scherzetto a tex perché purtroppo se lui tira nella biglia sono anni che lui tira nella biglia e non riesce da solo a vedere se questo effetto a destra o a sinistra aumentato o diminuito l'ha dato o non l'ha dato l'ha aumentato o non l'ha aumentato l'ha addirittura tolto lui non lo riesce a vedere allora io ho fatto questo scherzetto che gli ho tolto la biglia ma e quindi purtroppo voi a casa non lo potete fare da soli questo scherzetto allora nasce proprio questo tipo di esercizio che ora io lo facciamo fare a tex che viene fatto con una biglia sola una biglia è qui è quella che lui tira poi io metto due brilli bianchi che sono quelli che la si vedano nel disegno li metto verso questo diamante questo diamante che è il diamante chiamato del 10 con la biglia così ci metto due brilli così vicini che però si vede che la biglia ci batte nel mezzo a questi due diamanti e gli dico vai tex ora tira con l'effetto con l'effetto a destra come se tu stessi tirando uno spazio tira tranquillamente uno spazio di apertura scusate ma io devo guardare qui nel mezzo per vedere lui cosa fa tira con l'effetto che daresti al tiro è l'effetto tuo è tuo quello che decidi te vai bravissimo non era facile a fare quello che ha fatto lui eccoci addirittura la biglia ti è tornata precisamente sei andato nel mezzo a berilli quindi come mira sei stato molto bravo e l'effetto che hai dato come si fa a sapere quanto è come lo potresti fare a sapere quanto è soltanto dirlo quanto effetto gli hai dato parecchio parecchio è una bella risposta però è un effetto che il percorso che fa la biglia teorema avessi potuto dire due girelli no il percorso che fa la biglia ha detto quanto effetto gli hai dato e noi ce lo ce lo siamo memorizzato eccolo qui sono punti fissi si si rimetti la biglia allo stesso punto io mi metto a 10 dalla parte di qua ma dov'era sull'acchito del pallino no era nel mezzo tex fra l'acchito e la sponda questa la metto qui gli stessi stesso distanziamento ora che non mi puoi dire ma io quanto effetto gli devo dare qui non stiamo parlando quanto ti pare l'importante che deve essere uguale a quello di prima te lo sai prima quanto gli è dato quindi stesso tiro dalla forza delle tre passate come se tu stessi tirando eccoci eccolo 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 allora un attimo un attimo bisogna bisogna che mi ascoltate soprattutto se a destra è successa ora la stessa cosa di quando ti ho tolto di quando ti ho tolto la biglia perché veniamo qui al disegno vieni eh johnny allora esercizio esercizio per capire se c'è una differenza nel dare effetto a destra e a sinistra chiaramente io la faccio una specie di sgobbiettino qui e poi lo cancello subito con la con la con questa per metti capitemi così quando tex ha tirato questo di destra ha preso il punto preciso stabilito ok è andato precisamente nel mezzo a me e ha fatto un percorso è ritornato qui questo è il disegno del suo percorso dell'effetto che ha dato lui cancello quando tex ha tirato l'altro tiro quello a sinistra lui prima cosa non è andato nel mezzo perché ha abbattuto il perillo di sinistra quindi lui te tex su questo tiro avresti scarseggiato la biglia ti torna hai buttato giù il perillo di sinistra se tu avessi buttato giù il perillo di destra l'avresti presa grosso avresti rimpallato e il percorso che hai fatto è stato molto più stretto è ritornata all'angolo la biglia di seconda di qua scusate questi questi come si possano chiamare però volvi sgolvi diciamo che sono fatti qui ma servano per capire perché purtroppo non lo posso fare qui se non rovino il disegno quindi cosa è successo che l'esercizio se come diamo l'effetto differenze fra destra e a sinistra tex l'esercizio ha parlato chiaro a sinistra dai più effetto è lì che per quello ti ho detto dagli quello che vuoi perché se no se te lo dicevo io mi dicevi no due erano troppi uno no io ti ho fregato perché ti ho detto dagli quello che vuoi ma deve essere uguale perché se ora io ti dicessi dagli ne uno te gliene dai uno a destra e uno e mezzo a sinistra se io ti dicessi dagli ne due di la quantità le ne daresti due a destra e due e mezzo a sinistra cioè se te a dagli ne quanto te ne pare a sinistra gliene dato di più vuol dire che a sinistra glielo dai di più allora due come miriamo quando diamo effetto punto di domanda capire se c'è una tendenza ad andare a destra o a sinistra allora oggi non siamo in un momento dove noi spieghiamo proprio come si fa a mirare e queste sono cose più avanzate lo so che tutti a casa anche te tex vorreste avere un po svelati i segreti della mira con effetto perché un conto è mirare senza effetto si mira un punto con la stecca un conto è questo effetto strano si può mettere la mano parallela ci sono tanti modi occhielli queste si faranno più avanti oggi è soltanto tirare fuori una caratteristica da un a un giocatore tirarla fuori e poi trattarla insieme per cercare di migliorare il nostro obiettivo qual è che il giocatore in questo caso te deve avere due parti uguali te non ce l'hai ora due parti uguali perché la tendenza come miriamo quando dai l'effetto la tua tendenza l'ha parlato il berillo è caduto quello di sinistra vuol dire che te tendi quando miri la biglia dalla parte sinistra con l'effetto a sinistra tendi a scarseggiare di più la biglia ecco che te non mi puoi dire la stecca sbanda la stecca va contro effetto allora a te come ti va la stecca da una parte ti va dritta e da quell'altra ti va sull'effetto perché il test avrebbe detto così dalla parte dell'effetto a destra ti sarebbe andata dritta perché sei andato perfettamente nel mezzo abril dalla parte dell'effetto a sinistra invece sarebbe andata a favore dell'effetto e non è possibile che una stecca vada a favore dell'effetto soltanto da una parte quindi leviamoci per ora dalla testa queste cose della stecca che sbanda bilanciamenti anche se un giorno mi piacerà fare una tutta una una puntata tutta su queste cose che a te ti piace con tutte le queste cose che c'hai allora il testa ha parlato nel caso tuo devi stare attento fai questi esercizi tante volte mettendo i birilli quando riuscirai a colpire non abbattere i birilli sia da destra che da sinistra e e poi il percorso che ti farà la biglia sia da destra che da sinistra sarà lo stesso vuol dire che abbiamo migliorato questa cosa ora ti voglio far fare un altro esercizio strano me l'ha consigliato ghost è fantasma che arriverà eh non c'è ma è sempre con noi e mi è piaciuto questa cosa di di questa cosa perché esercizio qui si entra dentro delle cose tex esercizio per far entrare l'effetto dentro di noi ma sentita no sarebbe esercizio per far entrare l'effetto dentro di noi e sotto l'effetto non va soltanto dato perché uno si dice due girelli un girello l'effetto non va soltanto dato ma deve entrare nella nostra testa e nel nostro braccio pensa qui si sta dicendo delle cose un po' strano ti faccio capire cosa intendo allora bene il disegno c'è una biglia che una biglia ti faccio partire da qui ti faccio tirare da qui allora tolgo tutto vedete che il disegno che c'è là indica una biglia centrale e una linea centrale quindi l'obiettivo tex devi tirare la bianca sempre nel centro sempre nel centro eh se no ci metto il birillo sempre nel centro e io cosa faccio io vado a mettere johnny inquadrami un attimo con così faccio degli esempi qui vado a mettere per esempio una biglia qui te devi tirare decidiamo insieme con quale forza e devi colpire la biglia poi la metto qui te devi tirare decidiamo insieme la forza e devi colpire la biglia poi la metto qui avrete capito cosa si sta cercando di fare l'effetto deve entrare dentro di lui non è soltanto questione perché qui lui non è tirare una bricolla sai quella sempre la stessa qui è un effetto strano vediamo cosa fai sono veramente curioso allora primo tiro lo facciamo un accostino prendimi la biglia gialla johnny ce la fai a quadrallo prendimi la biglia gialla col pedo nel centro eh guarda che ti guardo eh se ci picchi l'accostino sulla sulla dalla bianca sulla gialla guardiamo 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 la forza la forza era perfetta l'effetto no siccome ora lo faresti si cambia allora cosa si fa la mettiamo qui qui non ho cambiato parte eh ma tirando piano l'accostino bisogna dargli più giro tirando piano l'accostino bisogna dargli più giro fermati tutta questa cosa che ti hai detto è bellissima è vera perché cosa succede che la biglia tirando piano quando arriva verso la sponda lo perde questo effetto che te magari gli hai dato ascoltami questa però è lezione avanzata che per ora l'effetto ti deve entrare dentro entrare dentro cosa vuol dire che te non ci dovrai più pensare a questa cosa non capisco più forte qui non fortissimo è una forza tipo quando si tira due passate sai cerca di prendere la gialla con più forza l'effetto deve entrare dentro la forza andava bene allora se è successa una cosa bella per lui che in tutti e due casi ne avessi dato poco andiamo avanti continua a tirare il centro è mi bante allora vai a costino lui fermati un attimo aspetta no ma lì è impostato sta impostato che tutti ti vedano e che sei ora si è fatto anche i capelli non tirare eh lui in questo momento vi state immaginando cosa sta pensando lui non lo sa quanto effetto nessuno gliela da lui è lì che dice forse sarà questo forse sarà questo ecco cosa intendo che l'effetto deve entrare dentro di te vai costino questa volta la costino ti sei scordato la forza e la riguarda truccare le palle la costino si è scordato la forza e hai dato meno effetto quindi sarebbe già un ragionamento intelligente che da tutte e due le parti hai dato poco effetto non è che ne hai dato un po di più a destra per dire di là sarebbe stato meno proviamo te la cambio eh perché ora qui lo sapresti eh allora vai forte non fortissimo però una steccata discretamente forte bravo bravissimo questa è la presa perfettamente ecco ora io mi fermo perché avrete capito cosa intendiamo hai capito tex nel momento dimmi sinceramente nel momento che teri lì che stavi tirando questo tiro che non sai quanto effetto ci ti devi dare diciamo a nulla pensavo a tirarlo e basta cosa quanto ne ne stavi dando cosa pensavi pensavo che quello che gli stavo dando con la solità con la steccata era giusto stavi pensando solo al tiro e quindi in prova qui con noi ci riesce a pensare solo al tiro vuol dire che quando subentra il voleggio capene la tensione della gara ricordati sempre quello che si è detto all'inizio se non ce la fai a pensare solo al tiro non ti devi spaventare devi iniziare a capire quali sono le cose che ti stanno arrivando nella mente che non ti stanno facendo pensare solo al tiro e le devi osservare osservare anche se sono cose brutte pensieri negativi osservare qui stavi cercando e l'effetto che ti stava entrando dentro nella mente e nel braccio e sono convinto che se continui a fare questi esercizi l'errore sarà sempre molto minore tornando al discorso di prima è vero quello che ha detto tex perché quando tiriamo un accosto e diamo un effetto specialmente se il biliardo è battuto che il diciamo un pochino a grappa nel percorso che la bilia fa essendo pianino lo perde l'effetto molti giocatori a casa sarà successo quando una bilia è vicino a un pallino tiri un accostino con effetto per fare solo il pallino e non la prendi perché l'effetto poi quando arriva là non ce l'ha più ma questa fa parte della teoria dell'insegnamento che strada facendo insegneremo tutte le cose come dove mirare quanto come mettere la stecca sull'effetto ora siamo all'inizio il nostro obiettivo è che l'effetto entrasse dentro di te ora spostati un attimo la mettiamo la bilia qui johnny ora c'è l'ultima cosa abbiamo lasciato io tex e ghost e il fantasma sappiamo tutto e te no abbiamo lasciato gli ultimi minuti per questa piccola sorpresa per te perché ora che sei lì con questa con questa telecamera non ti puoi muovere non puoi dire sì no non puoi fare niente devi stare fermo e basta allora noi abbiamo pensato a questo siccome tex e c'ha tante stecche c'era vero quanto ce ne ha anche pensato cosa faccio ne ha regalo una io a johnny no ma johnny mi ha detto espressamente che le avrebbe fatto piacere a regi questo così le avrebbe fatto piacere un modello particolare una stecca non è una qualunque e se non ho capito male se non ho capito male 2 faceva riferimento a questa che che stecca è questa questa è una stecca che io ci ho lasciato il cuore perché quando antonello cittadino me la fece questa era la stecca che qui c'è anche la punta di kevra dipende quella che ti piace di più questa è la stecca che andrea quarta lui vince con tutte le stecche però ecco quando ci aveva questa veramente io l'ho visto a volte questa c'è una dedica particolare se vuoi inquadrare un attimo qui lo vedi cosa c'è scritto ci si fa a legge qui ci vuole più luce con gesù nel cuore vivi per sempre quindi mi raccomando che questa stecca che non è che la puoi vendere non si può solo giocare che con questa stecca allora questa stecca eccola qui questa è per johnny walker il tecnico la michele da tex che è lì che legge che è lì che legge in mano e d'agosto per la nostra per questa per un ingratiamento per tutto quello che hai fatto per noi cerca di giocarci bene mi raccomando un saluto antonello che sempre da casa che ci sta guardando che che l'ha fatta e ci vediamo alla prossima volta alle 21 e 30 no come ho detto l'altra volta alle 21 però a tutti siamo a tutti dai grandi tex a tutti Grazie a tutti.